CONCORRENTI SENSEI CONCORRENTI SENSEI CONCORRENTI SENSEI Benvenuti al torneo di karate più importante al mondo. Il Sekai Daikai. Forza, dai, andiamo! Benvenuta a Barcellona, c***o. Non abbiamo chance di vincere. Almeno non spreco i miei neuroni per niente. Sapevamo che sarebbe stata dura. Il Cobra Kai è solo uno dei 16 dojo. Non siamo più noi contro di loro. Tori ha fatto una scelta. Non possiamo permettere che questo ci distragga. Hai avuto l'occasione diventando capitano della squadra e la stai sprecando. Vediamo che sai fare. C'è anche chi non ha niente da perdere. Ma tu sì, potresti perdere per sempre. Conosco gli americani. Non avete idea di cosa serva per vincere. Qui, a Barcellona. Barcellona, idiota. E poi smettete di pensare alla lealtà. Quasi tutti noi prima ci allenavamo altrove. Ciò che conta è dove siamo ora. Nel Miyagi-Do. Non succederà. Ok. Fategli sparire quei sorrisetti. no zegare! Pugà! Pro Everest.